Piscine, palestre, campi di calcio ma anche cinema, scuole o centri sanitari si potranno realizzare sul territorio cittadino con il contributo di operatori privati che scelgono un nuovo modo di fare impresa a servizio della comunità. Si intitola Attrezziamoci da noi ed è il ciclo di incontri che l'assessorato comunale all'urbanistica ha promosso con le 10 municipalità per realizzare e gestire nuove aree pubbliche o attrezzature di quartiere. L'obiettivo è quello di creare nuovi spazi per la collettività come previsto dal piano regolatore e coinvolgere anche i privati con la realizzazione di propri progetti e forme di convenzionamento con il comune. Le possibili iniziative di impresa e le modalità per realizzarle saranno oggetto di una serie di appuntamenti previsti il mercoledì alle 17 nelle sedi delle municipalità. Con un regime di convenzionamento molto semplice il privato realizza una struttura, immaginiamo una palestra o anche un asilo lido, strutture che comunque hanno utilità pubblica, garantisce nel convenzionamento la forma di assicurazione dell'interesse pubblico e poi ne ha anche un ritorno economico in termini di realizzazione di altre attività complementari e mettendo in moto in questo modo un meccanismo che ha un forte ritorno economico per chi le realizza in grande vantaggio sociale per la collettività.